numero 5 asciugamani elettrico automatico con fotocellula con una potenza di 1400 watt per il funzionamento basta collegarlo a una presa realizzato con scocca monopezzo in acciaio inossidabile asciugatura rapida delle mani robusto e durevole e facile da pulire prodotto particolarmente adatto per luoghi con un grande flusso di persone basso consumo energetico con due anni di garanzia disponibile in diversi colori in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 4 asciugamano elettrico con fotocellula con 2100 watt di potenza il coperchio è in abs termoresistente e antiurto funzionale e robusto garantisce una lunga durata nel tempo grazie all'elevata potenza del motore assicura una temperatura costante dell'aria calda e un'asciugatura completa delle mani in soli 30 secondi elegante e moderno si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente soddisfacendo anche le richieste più esigenti trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 asciugamani elettrico con fotocellula con un motore da 1400 watt dimensioni compatte forte flusso d'aria progettato per un'area di spazio limitato ma soddisfa comunque i requisiti di livello commerciale costruzione in policarbonato abs questo accessorio da bagno può resistere a un uso intensivo e all'usura quotidiana è facile da pulire e previene la crescita dei batteri sistema di controllo della temperatura intelligente con due anni di garanzia disponibile in diversi colori se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 asciugamani elettrico con azionamento a fotocellula dotato di vaschetta per la raccolta dell'acqua display lcd per visualizzare i secondi mancanti all'asciugatura completa e la temperatura dell'aria ha una potenza massima di 1500 watt per l'aria fredda e di 2000 watt per l'aria calda tempo rapido di asciugatura 12 secondi dispone di pulsante per selezionare l'aria calda o fredda puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 asciugamano nuova generazione prestazione a 4 lame d'aria per un'asciugatura rapida in 15 secondi possibilità di regolare la potenza del motore e di conseguenza anche il consumo di elettricità questo asciugamani è dotato di sensori a infrarossi su entrambi i lati che rilevano automaticamente la presenza delle mani inoltre dispone di un serbatoio interno di raccolta acqua estraibile e provvisto di valvola esterna che agevola lo svuotamento con protezione antimicrobica e antibatterica ottimo articolo acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione